buongiorno dunque siamo davvero felici di essere qua finalmente questo mido che abbiamo voglia di mido quest'anno vi presento il nostro brand noi facciamo la stampa 3d alta risoluzione tutto fatto in francia noi noi facciamo prodotti di alta qualità in 3d con le aste in metallo e siamo pure veramente per la sostenibilità perché per quanto riguarda un occhiale per esempio inaccettato si butta almeno 85 del materiale invece con la stampa 3d noi usiamo solo il materiale di cui abbiamo bisogno è questo in questo periodo veramente una buona cosa i nostri clienti sono veramente contenti dal peso perché ogni modelli il peso e va da 12 a 19 grammi possiamo veramente fare cose unici che non potete fare con un materiale come l'acetato o il metallo e quest'anno sono siamo veramente felici perché per la prima volta abbiamo dato la distribuzione ad open channel che ha la stessa etica da medie e io e credo che sia già un successo abbiamo avuti molti clienti che sono contenti che a loro fanno piacere tutti questi colori per nostra collezione possiamo offrire ai clienti tutti questi colori il cliente può fare su misura l'occhiale che gli piace di più se scegli questo occhiale per esempio ma le vuole in bianco in giallo lo può fare tutto è possibile noi possiamo pure fare modelli su misura sui diversi persone diversi clienti è una un'offerta unica perché non ci sono altri brand che possono offrire questo tipo di prodotto al prezzo giusto ringrazio vanessa e tutto il team di vm l'atelier io sono claudio al lavoro per open channel noi ci occupiamo della distribuzione del brand vm l'atelier in esclusiva per l'italia perché abbiamo scelto vm perché crediamo che sia arrivato il momento di puntare su un occhiale realmente eco sostenibile perché l'ambiente ce lo chiede e anche noi dobbiamo fare la nostra parte quindi vi aspettiamo per conoscere meglio il brand vm l'atelier